Nell'appuntamento del lunedì con l'opposizione agropolese su Cilento Channel, l'attenzione si è spostata sul centro storico e non sono mancate le critiche sul modo di gestire una delle zone più belle di Agropoli da parte dell'amministrazione Coppola. Io ho trovato tante persone e i ristoranti stanno per ripartire, mi sono interfacciata a parlare un po' del posto e dagli scaloni fino al centro storico ci sono state delle lamentele, afferma Gisela Botticchio, perché l'area è abbandonata come anche le mura del castello, in questa città manca l'organizzazione, mancano persino i bagni pubblici, vogliono fare turismo ma non sanno mettere a disposizione nemmeno i servizi ordinari, si stanno investendo dei soldi per il settembre culturale ma con questa pandemia il castello è stato proprio abbandonato e non si fanno nemmeno le più piccole cose come il ripristino di quell'erbaccia, la cosa più triste è lo spreco di soldi pubblici, siamo disorganizzati e spreconi. Agostino Abate invece mette in evidenza la mancanza che c'è sempre stata di un solido piano di recupero per la zona, l'accessibilità del centro storico è la cosa più importante per far funzionare meglio l'economia ma c'è la mancanza di un piano di recupero e di conseguenza la mancanza di un settore specifico che poteva portare economia a tutti, laddove il centro storico è parte di cultura ci può stare il contributo per l'ingresso, quello che l'amministrazione comunale deve fare e ridare dignità all'aria ma la capacità di fare questo l'amministrazione non ce l'ha di Chiara Abate, l'unica è quella dell'improvvisazione, non ho mai visto un castello che si rialza grazie a degli interventi per poi andare avanti per gradi, si stanno consumando i soldi, non hanno mai avuto il coraggio di fare un restauro generale, questa è l'occasione per evidenziare la mancanza di dialogo della stessa amministrazione che ha con i cittadini, ovvero con i propri elettori. Attenzione alta sulla ristrutturazione del castello e l'invito di Mario Pesca, il consigliere di minoranza del Movimento 5 Stelle di Agropoli a riguardo del finanziamento di 4 milioni di euro destinati all'ente. Io credo che dobbiamo vigilare affinché vengano eseguiti lavori ad opera d'arte al castello di Agropoli, per me deve esserci un ingresso gratuito eliminando l'euro che viene richiesto ai cittadini e ai turisti. Per quanto riguarda il centro storico bisognerà lavorare soprattutto sulla creazione di nuove attività economiche e dare la possibilità ai piccoli locali di vendere prodotti artigianali attraverso piccole caratteristiche bottighe. Il finanziamento dovrà essere usato per la ripresa del castello e dell'intera area, potremmo dare un nuovo impulso per una nuova ripartenza, conclude Mario Pesca.